Sabato 14 febbraio si terrà una nuova iniziativa di solidarietà della Fondazione Ant Italia Onlus. Buoni come il pane, una giornata di solidarietà volta alla valorizzazione del pane e dei suoi valori nutrizionali e alla raccolta fondi a sostegno delle attività di assistenza domiciliare gratuita per i sofferenti di tumore e dei progetti di prevenzione oncologica che la Fondazione Ant offre nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. Le panetterie che hanno aderito all'iniziativa, riconoscibili dalla locandina Buoni come il pane, devolveranno ad Ant una percentuale del ricavato dell'incasso della giornata. La manifestazione è stata possibile grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti e CNA. Pensando quindi alla prevenzione a tavola, l'alimento che sulle nostre tavole non manca mai è il pane e quindi per il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, è nata questa iniziativa in cui appunto chiediamo un contributo per la nostra associazione andando a fare uno dei gesti più quotidiani, ovvero quello di andare a comprare il pane. Dal punto di vista nutritivo è un alimento completo perché se andiamo a vedere quella che era in origine proprio la costituzione della farina che veniva utilizzata prima e che viene utilizzata ancora oggi, poi con le raffinazioni sicuramente questa farina è stata un po' impoverita e uno ne ha guadagnato però poi in conservazione e quindi rendimento dal punto di vista commerciale. Però se andiamo a vedere proprio ciò che si forma dalla macinazione del chicco la macinazione del chicco su mole di pietra come veniva fatto appunto in un tempo anche in questo forno che ho visto dal 1908 che sono attivi ecco che all'interno del pane noi troviamo tutto troviamo la parte più importante che è la parte di carboidrati sotto forma di amido quindi un carboidrato complesso, troviamo la fibra importantissima nella nostra alimentazione per il buon funzionamento dell'intestino, della flora intestinale che ci protegge anche da tante malattie perché comunque attiva il nostro sistema immunitario abbiamo all'interno dei grassi anche se in minima parte però dei grassi buoni mono e poli insaturi e abbiamo anche la parte proteica è un alimento quindi completo che se poi abbinato al companatico ecco che fornisce i valori nutritivi di cui abbiamo bisogno all'interno della nostra giornata ecco perché è stato pensato all'interno di questo progetto di prevenzione a un alimento come quello del pane insomma